Si è concluso anche il secondo weekend della tredicesima edizione di Chioggia Vela, l'evento promosso dal Circo Nautico Chioggia, in collaborazione con i comuni di Chioggia, Proloco Chioggia Sottomarina e Vela Veneta, con il supporto della Regione Veneto, obiettivo valorizzare e promuovere il mare e lo sport della vela nella splendida cornice di Chioggia. Sabato sotto un cielo grigio, oltre 40 imbarcazioni hanno partecipato alla Bars Bash, una regata globale incontemporale nei 1.105 località di 63 nazioni, con 23.536 barche partecipanti, in memoria del Valleista Andre Simpson, scomparso durante l'America Cup del 2013. Anadar Di Nordio Lorenzo ha vinto la gara, completando il percorso in un'ora e nove minuti, bissando il successo dell'anno precedente, cinque minuti dopo è arrivato UFO 22 Safran di Alberto Gandolfo, seguiti da Ilka 6, Ita 22 e 14 e 27 di Borsati Giulio. Ora si attende la classifica compensato con il Bars Number. A concludere il weekend è stato l'evento Meteorosa, che ha visto la partecipazione di equipaggi femminili. Quest'anno, in concomitanza con l'America Cup, l'evento è stato trasformato in un match race. Giorgia Bellemo del Circo Nautico Chioggia e Silvia Rumito dello Yacht Club Padova hanno conquistato il primo posto, seguiti dall'equipaggio del Circo Nautico Chioggia, con Angela Tiozzo, Monica Tiozzo e Auriella Nordio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.